L'intervento francese in Mali accentua la fuga dei civili dalle zone di guerra, decine di migliaia, gli sfollati degli ultimi giorni. Dall'inizio della crisi nel paese, un anno fa, i profughi sarebbero 400.000, a breve saranno 700.000, a vertelonu. Laggiù è dura, è troppo dura, racconta una maliena. Non mangiamo, non usciamo, non ci laviamo, i bambini non mangiano da giorni, abbiamo fame ed è per questo che ce ne andiamo. Ci sono bombardamenti? Sì, stanno bombardando. Gli islamisti ci hanno cacciato per vivere nelle nostre case, sono alla ricerca di case con doppie porte per mettere le auto all'interno, usano anche gli alberi per nascondere le auto sotto i rami. Organizzazioni umanitarie e paesi vicini si stanno attrezzando per assistere la popolazione, ostacolati da una sicurezza sempre più precaria.